Prosegue in Toscana la cura del ferro, in arrivo infatti quasi 8 milioni di investimenti regionali per garantire 9 anni di servizio ferroviario sulla linea Stia-Arezzo-Senalunga, potenziando e migliorando così l'offerta con due nuovi jets e un collegamento diretto tra il Casentino e Firenze. A partire dal prossimo settembre sulle nostre linee vedremo circolare due nuovi treni jets a 5 casse forniti anche di ampio bagagliaio per le bici e questo proprio per un servizio che la regione ci ha chiesto e sul quale noi abbiamo convenuto, cioè quello di valorizzare al massimo anche gli investimenti fatti per le ciclovie. L'importante nuova tratta che faremo con la fine del 2017 e inizio del 2018 è quella che rappresenta il nuovo servizio su Firenze, di fatto da Stia partiremo in maniera sinergica e da lì raggiungeremo Firenze sia al mattino per poi essere anche ricondotti a Stia nel primo pomeriggio. Questo fa sì che gli utenti del Casentino ma anche quelli della Valdichiana che negli orari più consoni arriveranno ad Arezzo possano utilizzare il nostro treno per raggiungere Firenze e tornare anche nella sede iniziale. Altri 20 milioni serviranno invece per rendere più sicura l'infrastruttura con l'installazione del più prestigioso sistema di controllo di mar. La regione finanzierà per l'investimento nell'infrastruttura e l'installazione nella medesima del sistema di sicurezza che è attualmente installato laddove corrono i treni all'alta velocità. Quindi sarà la prima ferrovia ex concessa, una delle ferrovie secondarie del paese che avrà l'installazione di questo sistema a dimostrazione come la regione tiene alla qualità del servizio ma anche alla sicurezza del servizio. Con questi investimenti la regione mira ad ottenere un servizio più affidabile e puntuale ed offrire una maggior qualità di viaggio ai passeggeri. Per questo sono stati posti degli obiettivi sfidanti, tra i quali una maggior puntualità e regolarità. Abbiamo fissato degli obiettivi che l'azienda dovrà raggiungere entro il 2019. Se questi obiettivi non saranno raggiunti saranno applicate delle penali, se questi obiettivi saranno raggiunti invece saranno riconosciuti dei bonus.